Il Polvarone torna in scena per la Croce Bianca, la compagnia aretina infatti domenica 10 dicembre porterà sul palco del teatro Mecenate di Arezzo per l'ultima volta la sua commedia in vernacolo, sto matrimonio sa da fare. Noi siamo sempre disponibili a dare una mano quando ce la chiedono per la beneficenza perché è una cosa buona, una cosa valida, una cosa che ci gratifica molto. La Croce Bianca è un'istituzione importante ad Arezzo, molto antica e quindi quando ci è stato proposto di fare questa iniziativa abbiamo aderito con grande entusiasmo ovviamente. Noi proponiamo il nostro spettacolo, sto matrimonio sa da fare, siamo arrivati alla quattordicesima replica quindi tanta roba per una compagnia amatoriale come la nostra. L'appuntamento è per le 17.30, l'intero incasso andrà a favore delle iniziative della Croce Bianca da sempre protagonista nell'assistenza e nel volontariato nella città di Arezzo. L'idea ci è venuta molto semplicemente parlando con Ivo e Roberta che sono due persone straordinarie e noi stavamo cercando dei fondi per acquistare una barella autocaricante da dare in dotazione alle nostre ambulanze di emergenza e loro sono venuti in nostro soccorso offrendoci lo spettacolo a titolo completamente gratuito. Tutto l'incasso verrà devoluto alla Croce Bianca e noi siamo molto contenti di dargli una mano nell'organizzazione. E' sempre un angelo! E' l'angelo della morte! Lei morirà in pochi giorni e senta questa donna! Oh, se impaudiscono attorno a tutti dalla sua moglie!